Oltre 400.000 euro, a tanto ammonta la stima della marcia rubata nello scorso fine settimana alla pelleteria Ares nella zona industriale di Bomba, frazione alle porte di Cavriglia. Un colpo studiato nei minimi dettagli è messo a segno da una banda organizzata che è riuscita a portare via nel giro di appena 3 minuti 400 borse di marchi importanti. All'ingente bottino poi si sommano i danni che i ladri si sono lasciati alle spalle qualche migliaio di euro. Per introdursi all'interno dell'azienda la banda infatti ha sfondato il cancello d'ingresso con un mezzo rubato dopo aver chiuso le strade di accesso con due camion, anche questi trafugati. Ma l'ammontare del furto poteva essere molto più ingente se non fosse stato per il passaggio sul posto di un autobus di linea che ha spinto i ladri ad accelerare la fuga. Un pullman della Maddia è passato, ha trovato la strada sbarrata da due camion, due camion di movimento terra qua in fondo. Giustamente dice qui succede qualcosa. I signori si sono visti fortunatamente per noi un attimino a volto scoperto ed ecco che hanno preso il possibile e sono venuti via, altrimenti non so che sarebbe successo ben di peggio. Nemmeno il tempestivo intervento delle forze dell'ordine è riuscito a fermare l'operazione. Allora al rivo la banda si era già data alla fuga attraverso le strade bianche che si trovano all'interno dell'ex miniere Enel. Le indagini per risalire agli autori del furto vanno avanti da parte della Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni. Non è da escludere che sia la stessa banda che a fine febbraio aveva tentato in vano di portare via alcune borse in un'altra pelletteria nel comune di Castelfranco, Pian Disco. Il modus operandi è sempre lo stesso, quindi pensano che le persone siano le stesse. Il problema è che ancora non hanno un volto e questo ci turba.